buongiorno finalmente disponibile la vodka di burde che si chiama acqua d'arno acqua d'arno perché è fatta con il grano che cresce sulle rive dell'arno e ovviamente un modo per prendere un po in giro chi in questi giorni sta prendendo in giro i poveri francesi alla presa con la vulnerabilità della senna siccome siamo con paltinieri e vogliamo esserli vicino visto che lui tocca a nuotare nella senna noi beviamo l'acqua d'arno che è la nostra vodka il sapore è quello che vi aspettate la vodka quindi questo l'alcol è molto buono che riusciamo a tenere a questo grano di una pulizia delicatezza appena pungente una bella componente floreale una bella componente di frutta fra ribes e mirtillo queste sono le sensazioni che emergono ma ovviamente molto è dato dal trasporto emotivo non è che veramente sentiamo questi profumi l'importante è come si comporta in bocca dolce fragrante fresca una tattilità importante e anche la capacità di miscelarsi molto bene noi la proponiamo come va di modo ora mentre una vodka soda semplicemente con un po della soda per poterla apprezzare ma per la base di tanti cocktail dal utilizziamo nella in miscelazione soprattutto però anche così con un po di ghiaccio con una bella tonica magari galvanina magari una fever tree una abbastanza di carattere risulta essere un compagno validissimo delle vostre serate la trovate in piscina da noi nei bar chiaramente in trattoria quando vi apriamo 26 agosto per ora nei nostri bar nei pool bar a lamburderia e in palagina stasera farà il suo debutto vi aspettiamo